The King of Games, il re dei giochi Ciao ragazzi, ciao a tutti, nuovo episodio di The King of Games edizione speciale quarantena visto il covid che purtroppo ci costringe a rimanere a casa quindi state a casa, io in questo momento sono da solo nel nostro punto vendita per registrare questo video questo video conterrà una deck profile di Cardfight Vanguard formato italiano come primo mazzo ho deciso di portarvi il mio clan preferito cioè Oracolo Esperto molti lo stanno utilizzando con la versione Susanoo insieme a Coco, Strega Scarlatta farò anch'io penso questa versione ma in questo video vi vorrei portare un qualcosa di un po' differente che è fatto sul mio diciamo così sotto clan preferito di Oracolo cioè Sorelle di Battaglia ora passiamo un attimo al campo da gioco in cui vi illustrerò la mia decklist eccoci qua sul campo per vedere la nostra decklist iniziamo pure dai gradi 0 abbiamo Waffle come starting Vanguard ne gioco ben 2 questo per evitare che mi venga ritirata la prima questa carta è una delle migliori per quanto riguarda la strategia rush di cui il sorelle di battaglia è padrone con un controattacco mettendo questa carta in anima guardiamo le prime 3 carte del mazzo per schierare in campo una sorella di battaglia tra DS e rimischiare il mazzo molto forte appunto per i rush ha un danno porta un'unità con più 2000 di forza quindi è ottima per mettere pressione all'avversario fin dalle prime battute di gioco come inneschi io gioco molti mi conoscono qui in negozio ma per quelli che non mi conoscono io ho una mia personale visione per quanto riguarda l'inneschi il classico 6-3-3 quindi i critici 6, 3 pescate e 3 risvegli come critici ovviamente sorelle di battaglia 4 ginger chiudono le partite inutile c'è una piccola leggenda qui a udine per quanto riguarda questa carta e questa qua è sempre quella che mi fa tra virgolette vincere con gli 1-2 per passare per finire i critici ovviamente per pescare gli uccelli psichici 2 per sempre inneschi sorelle di battaglia 3 per di tiramisù 3 pescate perché sì i risvegli non li ho voluti mettere sorelle di battaglia ho voluto mettere nono strega della nebulosa perché sono ottimi per sistemare la mano dopo che il perimischiare appunto un innesco nel mazzo che fa sempre bene e ovviamente poi sempre reparto sorelle di battaglia 4 cure non ho messo le mago losanga perché mi serve avere più sorelle di battaglia possibile nel mazzo già avendo 5 carte che non sono sorelle di battaglia è molto complicato diciamo così portare avanti la strategia quindi è meglio giocarne il meno possibile per quanto riguarda i gradi 1 classiche 4 sentinelle inutile dire sentinelle scatta 1 para qualsiasi attacco poi 2 per di lemonade lemonade che serve appunto per riciclare risorse con un attacco dell'anima di 2 scopre 2 danni quindi è ottima perché questo mazzo ha un abuso incredibile di contrattacchi 2 per per lasciare anche un motivo per lasciare già a G1 per quanto riguarda un melee classico 7000 se non ho anima attacca 10 quindi molto forte alla prima battuta del gioco se mai la peschi ma non è importante pescarla è una delle poche sorelle di battaglia da 7000 ed è ottima da portare avanti nelle fasi avanzate della partita quando l'anima è vuota infine 4 enabler quindi 4 lollipop in modo da sbloccare le abilità limit break delle carte delle carte limit break che comunque ne giochiamo soltanto una ma appunto giocandone 4 per possiamo vederla più facilmente e poi vedremo analizzeremo anche il grado 3 limit break grado 2 passiamo ai gradi 2 classiche 4 per di maccaronna se attacca e abbiamo un vanguard sorelle di battaglia attacca 12000 molto forte appunto tutti gli attaccanti da 12000 sono molto forti se poi abbiamo la nostra la fortuna di schierarla con waffol diventa un 14 quindi può colpire al secondo scaglione un 9000 che ha girato un indesco in difesa quindi molto molto utile molto utile in questo senso poi per i cerchini diciamo così cocotte avere un più uno in mano è sempre forte se la vediamo in vanguard costringeremo il nostro avversario a parare a meno che non voglia farci pescare una carta che comunque a parte 5 carte questo è un intero sorelle di battaglia quindi possiamo riuscire ad avere un vantaggio carte fin dall'inizio dopodiché abbiamo marshmallow sorella di battaglia qui partiamo già con altri counter charge e soul charge questa carta serve appunto per mettere pressione in modo da riciclare risorse quindi l'avversario sarà costretto a parare quasi ogni attacco per fare in modo che non abbiamo risorse per poter attivare i nostri effetti sarà molto difficile appunto che riesca a parare tutto e il senso di questo mazzo è riuscire a colpire subito a colpire forte e non sprecare praticamente risorse per sfruttarle in late game poi 2x di pudding pudding la gioco vedendo anche i gradi 3 perché gioco la legion di battle sisters oltre al fatto che appunto se colpisce ricicliamo risorse quindi scompriamo un danno da anche più 3000 ad un'unità quindi è assolutamente una scelta molto corretta gradi 3 abbiamo il 4x rigorosamente sp 4x di parfe limit break 4 prende più 3000 e se colpisce pesca una carta poi con 2 contrattacche su reale di battaglia se abbiamo poche carte in mano peschiamo una carta abbiamo 3 o meno 3 o meno carte in mano peschiamo ovviamente l'effetto si attiva quando abbiamo 4 più carte in mano cosa che capita abbastanza spesso essendo oracolo comunque il numero minimo è 2 visto che comunque è un effetto continuo quindi anche con il doppio assalto l'effetto si attiva quindi ottimo in questo senso dà senso all'enabler perché così possiamo mettere pressione fin da subito all'avversario in quanto se noi attacchiamo con con lollipop e una colonna da 21 una colonna da 21 che se colpisce che se colpisce peschiamo una carta quindi molto pericolosa infatti questo mazzo tende tantissimo a a voler essere aggressivo fin dai primi momenti poi tenere tenere campo per un po' di turni e poi cercare di chiudere due per di mille foglie questa qui principalmente serve parte che il suo effetto generation break 1 anche se cb2 è molto forte perché ci consente di di pescare una carta guardando tra le prime due del mazzo questo è il ci appunto ci riesce a portare in una situazione di vantaggio anche se siamo senza senza trascendenza senza che possiamo fare trascendenza stride dopodiché quando viene piazzata in vanguard paghiamo un controattacco un attacco dell'anima per pescare una carta quindi anche questo qua appunto serve per tenere alto il rush senza perdere troppe carte e infine due per della legion gili principalmente la uso perché perché è una legion rimischiare quattro carte perché odiamo crashare però anche l'effetto non è male cb3 comunque abbiamo un riciclo di risorse abbastanza alto per portercelo tra virgolette permettere per pescare tante carte quante sono le storie di battaglia nella stessa colonna di questa carta quindi in genere la colonna dovrebbe essere messa più o meno così in modo da poter pescare tre e avere un grosso vantaggio carte oltre il fatto che appunto si attacca vanguard è una colonna da 23 più 7 dietro sono 30 quindi è abbastanza forte da poter tenere soprattutto adesso che alcuni tendono ad usare dei vanguard da 10k perché molto più forti aggressivi infine passiamo alla gson che è molto semplice anche perché ci sono soltanto tre carte alla fine da poter mettere io gioco due per del redragon nove teste richiama nubi questo perché dopo che ha finito di attaccare un vanguard paghi un controattacco rimescoli tre carte nel mazzo e ripeschi tre molto utile per rimischiare inneschi ed essere più pericoloso nelle fasi avanzate del gioco e anche per sistemare la mano magari di carte che ti servono effettivamente nel mazzo e non in mano poi gioco due per di kirin due per di kirin che quando colpisce praticamente fa un più uno in mano ma anche questo senza questo principalmente quello che è forte perché è senza costi e quindi riesce a essere molto incisivo come primo stride come primo stride come potete notare sto giocando tantissimi effetti on hit quindi cerco di essere il più aggressivo possibile per fare in modo che una buona parte degli attacchi colpisca per poter essere più forte ovviamente se l'avversario si mette a parare il numero di carte che ha in mano diminuisce io pescando in maniera tra virgolette autonoma riesco a portarmi in vantaggio carte infine 4x di Takemikazuchi divinità spada francituono questa carta è la più forte che c'è adesso tra le unità G prendendo un attimo l'effetto controattacco 2 giro in su una faccia con una carta coperta da tua zona G con lo stesso numero di questa unità se il numero di carte faccia in su è 2 superiore guarda le prime 4 carte aggiungi 2 e metti il resto in fondo forte anche questo è un contrattacco abbastanza pesante però ovviamente contiamo di riuscire a fare tutto cioè a non doverlo giocare tra virgolette perché comunque il mazzo vuole riuscire a chiudere nel più breve tempo possibile possibilmente magari con questa carta mettendo su una pressione abbastanza alta con tanti controattacchi con altre tanti controcariche con altre controcariche questo mazzo cerca appunto di portare tanta aggressività sul campo riuscendo appunto a far entrare quegli attacchi che servono per poter avere risorse questa era la decklist spero vi sia piaciuta se avete dei commenti di suggerimenti per migliorarla sono tutto orecchi qui giù sotto nei commenti potete scrivere cosa ne pensate se anche voi avete provato diciamo così a trovare un'alternativa al mazzo raccol esperto in questo periodo con questo vi saluto vi rimando al prossimo video mi raccomando seguiteci su tutti i nostri social instagram facebook youtube c'è anche twitter ma non lo usiamo quasi mai praticamente chiocciola dei king of games su di mi raccomando iscrivetevi al canale youtube mettete la campanella in modo da poter essere avvisati di nuovi video sperando che questa emergenza passi presto noi ci vediamo in un prossimo video e spero al più presto nel nostro punto vendita vi ricordo essere in via qui lei a 15 a udine ciao ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale e non perdetevi i nostri prossimi video the king of games il re dei giochi e non perdetevi i nostri prossimi video e non perdetevi